Ho preso la stampa di oggi, perché c'è un bell'articolo sugli psicofarmaci che sono un po' diventati la nuova moda, su giovani che ne abusano sempre di più, volevo chiederti dal tuo punto di vista qual è la situazione, quali sono le motivazioni, che tipo di colpe hanno gli influencer, i normalizzatori, perché adesso si usa tanto questo termine di normalizzare, che è un'altra questione un po' spinosetta. Ale, argomentone, provo a sintetizzare, allora è vero che anche l'utilizzo degli psicofarmaci da parte dei giovanissimi ultimamente ha seguito un'impennata, per parere ovvia, gli psicofarmaci evidentemente possono essere assunti sotto prescrizione esclusivamente, anche se su questo devo lanciare una denuncia, ti devo dire che io conosco molti casi nei quali magari hai il genitore che ha la prescrizione per lo psicofarmaco e lo allunga anche ai figli, non è la prossima, capita non così infrequentemente, però insomma per avere lo psicofarmaco prassi vuole che qualcuno te l'abbia prescritto. È certamente vero che si è osservata una tendenza negli ultimi anni, la mia l'ha esasperata ma non è colpa del covid, tale per cui abbiamo teso molto a psichiatrizzare e a problematizzare. E' quella dell'età evolutiva di cui ci occupiamo anche noi in trasmissione, per cui diciamo che convenzionalmente riguarda gli 0-18 anni, non è che a 18 anni e un giorno sei cresciuto, però in qualche modo la teoria dice che sei giunto al compimento della tua personalità, hai una struttura nel frattempo calcificata, sei quella roba lì, non diventi immutabile, però diciamo che comincia ad avere un'identità riconosciuta e riconoscibile. L'età evolutiva dal punto di vista della crescita vuol dire questa roba qua, quando ormai non c'è più granché da dire di chi potresti diventare se non facendo un profondo lavoro di trasformazione. Allora generalmente chi è un po' del mestiere, fa le robe con onestà intellettuale, sa che finché stai crescendo anche il disagio importante, anche il blocco severo, anche il dolore che urla e magari arriva ad essere sintomatico o a farti compiere dei gesti anche particolarmente degni di attenzione, in realtà nella primissima delle ipotesi dovrebbe essere letto appunto in chiave evolutiva, cioè non puoi essere etichettato dal punto di vista nemmeno diagnostico una volta per tutte, quindi generalmente ci si astiene dal fare diagnosi, perché poi il DSM che è il manuale attraverso il quale si diagnosticano le persone vale per gli adulti in effetti, perché comunque sei in un'età della vita in cui da una mezz'ora con l'altra capitano cose, quelle cose che capitano sono la vita. Facendo questa premessa tu capirai che la maggior parte delle cose, non che con questo si relativizzino, però se lette dentro ad una prospettiva futuribile di crescita, non necessariamente hanno bisogno di intervenire per essere subito interrotte, tappate, inibite con gli psicofarmaci. Ci sono dei casi in cui questa cosa occorre, ma devo dirti che sulla popolazione generale sono un totale ridotto. Con tutti gli altri, parlo dei nostri figli, dei nostri studenti, dei nostri bambini, stiamo costruendo una cultura della salute di cui da un lato cominciamo a parlarne, ed è bene, però spesso se ne parla in un modo, come dici tu, fuorviante, a volte affidato a delle persone che portano la loro esperienza, però Ale non è che io ti racconto la mia storia, allora può diventare il benchmark per tutti. Infatti guarda, l'articolo dice una cosa, secondo me è molto interessante, che questa ascesa degli psicofarmaci, nell'articolo si teorizza, che sia dovuta anche al crollo dell'autorità, cioè tutti gli influencer, tutte le persone che hanno un seguito, che sui social network parlano cercando di normalizzare, che poi l'effetto principale in realtà è un guadagno sul loro profilo in termini di visualizzazioni ed economico ed engagement, di normalizzare una malattia, fanno sì che le persone non valutino più una situazione per quello che è, ma per quello che provano. E nel momento in cui tu provi qualcosa e tutti proviamo qualcosa, ti convinci che sei in grado di autoprescriverti una soluzione. È come se non servisse più avere un medico, ma tu ti puoi tranquillamente dire che sei un malato perché ti senti malato. E questa cosa qua aiuta. Quindi quando seguite tutti quelli che dicono normalizziamo, normalizziamo, non è necessariamente una cosa positiva quello che stanno facendo. Assolutamente, anche perché dobbiamo intenderci su che cosa significhi, perché io temo che questa roba faccia il giro e diventi una cosa tale per cui quello che stiamo normalizzando è smettere di sentire dolore, ok? E quindi ci stiamo tutti anestetizzando, perché di fatto poi lo psicofarma è questo che fa, è quello che faceva la droga quando eravamo giovani noi, no? Adesso i ragazzi non fanno più uso di sostanze, gli utilizzi sono in crollo e in realtà riguardano la fascia della popolazione adulta sia per l'alcol che per gli altri tipi di sostanze, i ragazzi non trasgrediscono più e di fatto non sanno stare con come si sentono. Quindi questo c'è. Da parte nostra devo dirti che c'è anche una responsabilizzazione che dovremmo assumerci come mondo degli adulti perché sia come genitori, sia spesso come tecnici, in effetti noi tendiamo, a proposito di normalizzazione fuorviante, a omologare, a zittire, a imbavagliare e a non lasciare quel ragazzo o quella ragazza dentro all'esperienza di come si sta sentendo in quel momento che spesso a 16 anni non può che essere male. Tu a 16 anni ti devi sentire male, non dico sempre, non dico da morire, ma un bel po'. Non va evitata quella parte lì. Vabbè, insomma, è un discorso davvero molto interessante. C'è l'articolo sulla stampa, magari ne riparleremo anche noi più avanti.